Io non ce la faccio più ragazzi, io non ce la faccio più! Non si può sentire una cosa del genere, la gente dice che questo enlisted, che questo enlisted da, andiamo a vedere, si parla di un gioco di PS5 ragazzi, PS5, dalla grandezza del prodotto di esattamente 14 giga, ovviamente lo vendono a un prezzo sproporzionato, sti schifosi, 14 giga di gioco come potete vedere, andiamo a vedere il gioco ragazzi, io ho portato un video sul fatto di questo gioco qua per farvi vedere a tutti che cos'è enlisted, ok, un free to play uscito per PS5, solo PS5, esclusiva PS5, ma mi rapporti con una grafica marcia così? Certo, è un free to play, ma che cosa ti aspetta un free to play? Mi aspetto un gioco bello, io ho comprato quella console A che è lì a prendere la muffa per avere un bel gioco, un gioco dove quelli della PS4 no, non ce l'hanno, non ce l'hanno questa grafica, perché dovevo spendere tutti quei soldi? Mi date un motivo perché io ho dovuto spendere tutti quei soldi per avere una PS5? Scemo, scemo io, ma io ho detto, ma fidiamoci, fidiamoci, l'abbiamo comprata e che cosa ci ha dato? Cosa ci ha dato questo gioco? Un free to play, un'esclusiva PS5? Quando parlo di esclusiva, sì, è uscito per PC e PS5, parlo esclusiva per PS5 vuol dire su PS4 non c'è questo gioco, ma tutti a difenderlo, tutti a difendere questo gioco brutto qua, ma proprio tutti a difenderlo. Sì, ma è bello, perché puoi avere i tuoi soldati? Tutto in inglese, siamo, ma perché devo giocare ancora in inglese? Ma se andiamo a vedere le lingue, ragazzi, andiamo a vedere le lingue, vediamo le lingue maledette schifose di questo gioco, andiamo a vederle, se ci sono le lingue, se ci sono le lingue, guarda, non mi dico che si parla solo in inglese, basta sto gioco, guarda che gioco di merda, neanche variate lingue tedesco, francese, niente, a volte mettono anche l'arabo prima dell'italiano, ma si può vedere una cosa, già fa schifo perché non puoi mettere neanche le lingue, guarda, guarda, dove sono le lingue, guarda, ma c'è, lingue non esistono in questo gioco, te lingue in questo gioco non le puoi mettere, un motivo perché fa schifo, le lingue, e poi dici, vabbè, ma che bello il gioco, andiamo a vedere il gioco bello, andiamo, andiamo, guarda la grafica, guarda, siamo su PS5, ragazzi, questa grafica non è accettabile neanche su PS4, su PS4 una grafica del genere non è accettabile, e ma te devi provarlo su PC, ma io lo sto provando su PS5, perché devo andare a provare su PC, se io lo ho scaricato pre-to-prezzo nella PS5, non voglio provare per PS5, vediamo sto gioco bello, vai, gioco bello, ma io voglio trovare uno dei miei, eccoli qua, i miei uomini, guarda, 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 guarda che grafica brutta, ragazzi, ma guardate bene, guardateli, guardali, guarda che brutta, guarda questo, questo che è un player normale, guarda, guardalo, 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 dai ragazzi, stiamo vedendo di cosa si parla qua, veramente, guarda, guarda che brutta grafica, guarda, siamo su PS5, guarda le mani, guarda le mani di questo schifoso, minca, guarda, poi si allungano, guarda, ha staccato il grido, cheması troppo избra', quella da non sono, e non ciò più tranquillità, ti fai vedere, non si è dato coi, non ce le ha uscita, guarda, non c'è nessun è uscita guarda che stai con i pugni guarda che stai con i pugni ma la fanno morire almeno mi devo di più io non stavo a mirare i cattini che non è casino dai andiamo via guarda 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 poi lento proprio brutto eh ma questo è un altro tipo di guerra ma che non stai con la schifata qua come fate a difendere questo gioco qua ragazzi è proprio lo schifo è lo schifo sai che ci giochi sei codonato che non puoi mettere guarda guarda che grafica guarda che grafica ma che fai vedere qua cos'altro un oggetto guarda come è definita bene guarda un gioco andiamo a vedere le case proprio proprio irreale fatto male madonna ragazzi mamma che è scusa ti giuro se te giochi a questo gioco sei nemmeno idiota non sai giocare un gioco più bello c'è mille giochi più belli di questo una bella grafica ho sentito di merda ho sentito di giocare di giochi ma mi piace mi piace guarda che senti che i rumori continui e da fastidio guarda questo è un tiro che proprio giochi a free to play perché è gratis invece di spendere qualche soldino per comprare qualcosa di male guarda che buona ma la mia squadra dov'è? e almeno arrivano e ve li faccio vedere e io guarda quanto sono lontano e devo sentire ancora i rumori continui guarda sono lontanissimo e sento ancora i rumori guardate la mia squadra eh guardate la mia squadra guardate la mia squadra guarda 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 ha fatto male il fucile guarda guarda non ci può dare il comando ho fatto ma è fastidioso sto gioco perché se io voglio mi voglio allontanare ancora un po' vai sento questi qua che spawn di continuo sono lontano e sento ancora i rumori guarda guarda quanto sono lontano sento ancora i rumori stai lì, stai lì, stai lì fatti vedere fatti vedere, dai fatti, fatti vedere ragazzi siamo su PS5 guardate che gioco brutto guardate che gioco brutto sul PS5 ma neanche posso ucciderti guarda guarda siamo su PS5 la gente ha il coraggio di dire questa grafica è bella cosa? la PS3 è più bella la grafica guardala guardala guarda il fucile entra dentro ma poi sono stati fatti due giornamenti da un un tuo ultimo video attraverso gli altri giornamenti come fai a rilassarti il gioco del genere? diventi scemo a stare qui davanti questo è un gioco che ti fa diventare scemo favolo scemo una cosa bella io lo giuro vediamo l'ora che esce il Lisbeth ma da no me ci sono rimasto male fatti vedere, fatti vedere, guarda ma mi ha fatto male questo personaggio poi tutto scattoso terreno come si parla a giocare a un gioco del genere quando c'è un batte nel film? quando ci sono altri giochi molto belli nel gioco è che c'è un calocaduto poi parleremo anche di quei calocaduti eh ho visto alcune cose di quei calocaduti ovviamente che ne parleremo ancora poi arriviamo anche là non si può giocare a un gioco del genere ragazzi fa veramente schifo ma perchè? ma guarda poi se qui ti inseguono lì c'è la tua squadra mentre la livelli che i sistemi dici che il PC deve avere domino vanno, sparano io sto sentendo i soliti rumori che sento quando sono laggiù fastidio proprio fastidioso il gioco proprio brutto io ci sono rimasto di merda ma perché non andate a vedervi il trailer di questo gioco? guardatevi il trailer di questo gioco e ditemi se li specchia questo gioco lo stiamo vedendo adesso dimmi se il trailer di specchia questo gioco che stiamo vedendo non mi fai incazzare queste cose perchè io spezzo per avere la grafica della PS3 poi se andiamo a vedere ora ora giochiamo un attimo di questo infatti abbiamo visto no un gioco di merda passi mi è toccato di scaricolino un'altra volta per far vedere andiamolo a chiudere un attimo e questo ovviamente lo togliamo ora per farvi rivedere un attimo il gioco marcio che ti sei comprato e dici anche che è bello dici anche che è bello madonna su PC Frank è più bella madonna te l'ho porto su PC ora uno di questi giorni ti faccio vedere che faccio schifo anche lì io ho comprato la PS5 per avere questa esclusiva bello esclusiva e mi ritrovo tutti questi giochi marci questi giochi marci qua ma non si può avere un gioco del genere che addirittura te lo vogliono far pagare anche i pacchetti i pacchetti di quel gioco lì madonna fammelo ricercare al volo te se vuoi quel gioco lì devi pagare i pacchetti lo puoi avere gratis o se vuoi i pacchetti devi pagare i pacchetti ma quanto paghiamo Frank i pacchetti vediamo vediamo quanto costano vediamo guarda guarda hai il coraggio di chiedere hai il coraggio di chiedere 59 euro guarda che prezzo ha il coraggio di chiedere 59 34 anche le monete ovviamente è sciopposo il gioco è uno scioppiosissimo scioppi anche per essere più forte vuoi le cose compri le monete spesa per account prendendo soldati addestramento dei soldati paghi anche quindi è anche un gioco un pay to win e qui torniamo al pay to win vedete addestramento dei soldati livello di squadra e campagna eccetera quindi te paghi per essere più forte solito discorso una cosa sul canale abbiamo sempre parlato se c'è una cosa che mi fa schifo è dove te paghi per essere più forte il pay to win che l'abbiamo visto anche in diversi serve già passati l'abbiamo visto un po' in tante cose io questi giochi qua ci sputo marci schifosi brutti che rovinano tutto questi sono giochi che rovinano rovinano tutto te paghi per essere più forte degli altri che bello eh Frank ma è il free to play lo compro e ci gioco e basta per avere il free to play no perché tu sei un coglione vedi che te lo compri lo scarichi gratuitamente poi sei stronzo cosa fai e ma io voglio le scheme e vai a pagarlo 9,99 quindi già il gioco è pagato 9,99 e ma io voglio un pacchetto invasione in normandia 34 euro e 99 se tu veramente hai pagato 34,99 per questo gioco te stai male te stai male te fattelo dire 34,99 ho 59 c'è chi vuole tutto il pacchetto 59 e giochi compri tutta questa roba tutti i vestiti belli gli addestramenti guarda, guarda i mini pacchetti guarda, guarda non è un gioco grazi è un gioco grazi ma sei un nabbo un coglione che va in giro eh ma io so giocare devo fare anche il livello e mano a mano mi faccio tutto ok sarei quello con i soldi che si compra questo come ti metti lui spara c'era tutti i soldati più forti dei tuoi i suoi soldati sono livellati a livello 10, 20, 30 e te c'hai quelli a livello normale come ti metti come ti metti con uno in genere come fai a giocare a un gioco così come fai a dire che bello ha fatto una kill come fai a dire oh ma l'ha ucciso ma l'ha ucciso uno regolare no non è così ragazzi questi giochi i giochi andrebbero livellati per livello sto a livello 10 fammi giocare con quelli che stanno dallo 0 al 10 sto a livello 20 fammi giocare con quelli che stanno a livello da 0 al 10 questo ovviamente comporta tanti giocatori è chiaro oppure aumenta un po' 0,50 non mi puoi far giocare con quelli che stanno tutti livellati sciopposi compri paghi e sei più forte degli altri come gli odio ti giochi i maschi e voi che ci giocate anche chi di te sono belli voi siete dei deficienti se giocate a un gioco così siete dei deficienti non voglio spendere soldi non voglio spendere soldi non voglio spendere soldi e quindi gioco a quel gioco lì giusto no? giusto sta a vedere eh? sta a vedere lo schifoso che parla guarda mi ha fatto uscire anche il ma... ah ok ora torna sta a vedere eh? faccio vedere ora intanto che ora so che è nero ora diventa tutto colorato franco io non voglio... ok guardati questo te lo faccio vedere di qua guarda schifoso schifoso te lo faccio vedere di qua te che paghi paghi per avere... poi scioppi perché una volta che te inizi a giocarci sono sicuro che lo scioppi sono sicuro che vai a rovinarti e vai a scioppare in questo gioco marcio aspetta guarda ora ecco questo gioco qua lo vedi? Battenfield è 1500 volte più bello puoi fare le community puoi giocare in diverse modalità fatto tutto per bene a modino una grafica che su PS4 è bellissima su PS5 è uguale è uguale stiamo parlando di una grafica identica perché come vedete non c'è le varie versioni ok? non l'hanno fatto la versione PS5 cambierà di poco la PS5 è uscita da poco ancora i giochi devono uscire quelli buoni si aspetta anche quelli raga ma non potete giocare listed quando c'è Battenfield a 9,99 non lo puoi compra non c'è 9,99 costa 9,99 quando c'è i sconti vai 9,99 e te lo compri questo è un gioco bello ma non puoi giocare a quell'altra roba brutto e listed tutto sciopposo paghi per avere soldati più forti tutto io ti parlo di Battenfield ovviamente perché dico il migliore su PS4 PS5 può essere Battenfield se vuoi quel tipo di guerra di quell'anno così quello va bene 9,99 lo compri ecco fatto ma non puoi comprare quel gioco là marcio schifoso sei proprio un deficiente se ti compri quel gioco lì sei male non ci arrivi e non puoi dire che ti diverti perché non puoi divertirti con un gioco così schifoso maledetto schifoso ho un cazzone ti tiro questo nel denti non è in chiacca meglio perché hai fatto bene e io posso sparare e ho i miei soldati che si scadano scioppone 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 schifoso perché tanto scioppi se l'hai comprato sei sicuro che hai scioppato sei proprio un immerto imbecile e questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao